salve amiche e ad amici dal vostro sante gian come vedete sono ritornato nella mia biblioteca sto ancora preparando dei commentari ai libri e al più presto vi farò sapere devo aggiornare il mio canale santa incendi youtube per il momento sono stato dietro a spreche e anche a sand cloud e poi anche a google plus che purtroppo si è attualizzato molto male ultimamente però ecco vi debbo dei commentari ai libri non mi scordo di farli ma per il momento purtroppo non ho avuto tempo vi prego di scusarmi continuate a seguirmi come avete sempre fatto e quindi ai prossimi commentari e ps fra l'altro gradirei che qualcuno di voi mi spiegasse che sta succedendo in italia perché la politica cambia giorno dopo giorno e non ci si capisce un cazzo e sono preoccupato per il nostro paese ma state impazzendo tutti la e poi un'altra cosa sono molto preoccupato perché dicono che una tormenta si sta avvicinando al lazio e quindi la mia cara amata roma e soprattutto il mio caro amato quartiere casal palocco poi a ciglia dragona san giorgio l'euro non voglio che spariscano del mappa geografico quindi fatemi sapere qualcosa quello che succede a casal palocco in roma va bene quindi un saluto a tutti i miei cari amici e lo viola laura pezzino massimiliano di venanzio mimo corcione e come sempre saluto anche a te travaglio marco travaglio mi raccomando se ti occorre un collaboratore per il tuo giornale adesso di messi i panni dal capitano sentencian perché il capitano sentencian vuole essere il capitano della nave che tu già sai che poi vanno allo sbando comunque ma adesso con questi panni ti chiedo mi vuoi tu come collaboratore del fatto quotidiano o pezzo da 90 come me ti farebbe comodo come corresponsale come inviato speciale come collaboratore speciali ecco soprattutto speciali e categorizzato così e magari guadambio anche un po un po di quadrini sono disoccupato non so quanto potrà essere 10.000 euro al mese vabbè facciamo che sì mi va bene lo stesso allora mi raccomando marco travaglio è che ti seguo da tanto tempo sono un travagliologo fammi sapere che così inizio subito a collaborare ciao salve a tutti e alla prossima